Eccomi ragazzi, allora oggi vi presento, come già avevo detto nei post precedenti, l'avete già visto, il grillo di Caruso e Minini. Oggi lo andiamo ad assaggiare, le altre volte appunto ho fatto un post, sono andato a visitare l'azienda in Sicilia ed è stata una cosa veramente fantastica poter vedere come effettivamente un'azienda con la quale collabori lavora al suo interno. Devo dirvi che questo grillo fa parte della linea naturalmente bio, l'avete già conosciuto, Caruso e Minini ci tiene tantissimo a questo lavoro anche che sta facendo proprio sul packaging. Allora, diciamo che il grillo è il fiore all'occhiello dell'azienda, hanno deciso di produrlo facendo arrivare a DeViti da una delle loro colline più alte. Questo per mantenere la freschezza e l'importanza dei profumi che dopo vi andrò a raccontare. Questo vino è molto fine e ha una bellissima persistenza in bocca. Ora lo andiamo a degustare e poi vi racconterò anche come viene fatto. Allora, prima di tutto lo vediamo, ha un bellissimo colore, un giallo paglierino con qualche riflesso verdolino. Mettendolo al naso, mettendolo al naso c'è una bellissima esplosione di sentori. Senz'altro fiori bianchi, quindi c'è il somino. Una grande bella importanza a livello di frutta, quasi che vira al giallo, con delle sensazioni anche un po' tropicali come l'ananas, la pesca. E poi una sensazione di salinità, di mare. Cavolo, questo è un vino di mare. Io ho amato il grillo quando sono andato in Sicilia durante il mio ultimo viaggio perché veramente ti fa capire come la Sicilia, con questo importantissimo influsso delle correnti marine di Avini, con una bellissima verve e un bellissimo carattere, diciamo... Sì, non vorrei dire frizzante perché non parliamo di una bollicina, però sì, sono frizzanti, sono freschi, sono veramente caratteristici. Quindi ora lo andiamo ad assaggiare. In bocca è salino, salinità. Questo qua non mi stancherò mai di dirvelo, è salino. Poi ha una grandissima importanza a livello di corpo. Ritrovo assolutamente tutte quelle che sono state le sensazioni di frutta. La tropicalità esce ancora di più, il passion fruit trovo in questo vino, assolutamente sì. Poi vi ho detto al naso, una pesca a polpa gialla. Questo è un vino di carattere. La Sicilia con il grillo da vini di carattere, Carlo Semminini, va perfettamente a portare questo concetto dalla bottiglia al nostro bicchiere. Come viene prodotto questo vino? Fa una leggera criomacerazione in acciaio, una prezzatura soffice e poi successivamente, fermento in tonno di rovere di acacia e viene spostato in acciaio. In acciaio che cosa fa? Fa due batonnage al giorno e poi prima di uscire sul mercato due mesi di affinamento in bottiglia. Questo è il suo corso. Ragazzi, questo qua è il vino perfetto per una pasta al pesce o per una frittura. Siamo in Sicilia, si sa che gli abbinamenti vanno fatti regionali. Quindi io vi dico che è su una terrazza, al mare, guardando il tramonto, con un bel piatto di pasta, con degli scampi. Questo qua è il vino che vi farà sognare. Continuerò a parlare di Carlo Semminini perché è un'azienda alla quale tengo tantissimo e stiamo facendo una bellissima collaborazione. Quindi, questo Sicilia Doc, grillo della linea Naturalmente Bio. Ragazzi, un grande cin cin a tutti voi e ci vediamo al prossimo racconto.